Uno avrebbe fornito le armi, l'altro avrebbe partecipato all'esecuzione per poi distruggere armi e mezzo. L'aguato ai danni di Bartolomeo D'Ambrosio è avvenuto ad Altamura nel Barese 14 anni fa, il 6 settembre del 2010, a due nuovi indagati. Sono stati arrestati dai carabinieri nella stessa cittadina murgiana e a Sulmona. In Abruzzo un 39enne e un 59enne perché ritenuti responsabili dell'omicidio. I due sono indagati per omicidio in concorso, porto e detenzioni di arma da fuoco. Allora è contestata anche l'aggravante mafiosa. Entrambi sono pregiudicati, il 39enne era già in carcere per altra causa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 39enne avrebbe fornito le armi al gruppo che materialmente eseguì l'omicidio, mentre il secondo avrebbe partecipato all'esecuzione di D'Ambrosio e avrebbe poi provveduto a distruggere le armi e la macchina utilizzata per l'aguato. Il suo omicidio maturò nel contesto della faida tra il suo clan e quello lo giudice per il controllo dell'attività illecite sulla città. Per questa faida tre persone sono state già condannate in via definitiva. Le misure cautelari in carcere eseguite dai carabinieri sono state emesse dal GIP di Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Grazie a tutti.